Il galoppatoio comunale di Prato Sardo, gestito dal gruppo ipico nuorese, avrà di nuovo la sua struttura al coperto. Avranno finalmente inizio i lavori di ripristino della copertura andata distrutta otto anni fa a causa di una fortissima ondata di maltempo che aveva colpito la zona. L'intervento verrà realizzato con un finanziamento di 276 mila euro, dei quali 200 mila provenienti da risorse regionali e 76 mila euro stanziati dal comune di Nuoro. Il galoppatoio comunale rappresenta un fiore all'occhiello tra gli impianti sportivi cittadini, ha spiegato l'assessore dei lavori pubblici e dello sport Fabrizio Beccu, che ha effettuato un sopralluogo sulla struttura. È una realtà di forte richiamo per i nuoresi, ma anche per gli appassionati di tutto il territorio. Il rifacimento della struttura al coperto è importante soprattutto per i bambini che si avvicinano al mondo dell'ippica e per poter svolgere le attività anche in caso di freddo o di pioggia, penso in particolare ai corsi di ipoterapia. L'impiantistica sportiva cittadina, ha aggiunto il sindaco Andrea Soddu, è sempre stata una delle nostre priorità e nonostante la carenza di risorse comunali stiamo portando a compimento numerosi interventi, riuscendo a reperire i finanziamenti necessari, percorrendo tutte le strade a nostra disposizione. Il galoppatoio è una struttura a cui teniamo in modo particolare, a concluso, considerata la tradizione nuorese nell'allevamento dei cavalli e la presenza di tanti amanti dell'ippica.